Sarà un Natale amaro per i lavoratori della Tecnocall che in maniera irrituale ma col cuore in mano hanno deciso di prendere carta e penna e rivolgersi alla guida spirituale della città dell'Aquila, il cardinale Giuseppe Petrocchi. Tecnocall è un call center, la cui vertenza va avanti da tempo. Si occupa di servizi alla clientela del mercato tutelato dell'energia, gestito per conto di Acea. Più di 100 lavoratori e lavoratrici che in base a delle nuove norme rischiano il posto di lavoro. All'Arcivescov hanno spiegato che con il nuovo anno cesserà di esistere il mercato tutelato e il decreto legge promosso dal governo non prevede nessun tipo di tutela per loro. La lotta va avanti da tempo e si sperava in una soluzione positiva perché nella prima bozza del decreto energia era inserita la clausola sociale. Drammaticamente scrivono a Petrocchi e senza una motivazione comprensibile tale salvaguardia è stata cancellata e noi a pochi giorni dalla data della fine dell'anno siamo piombati e piombati in una condizione disperata. I lavoratori spiegano a Petrocchi che la loro retta era il rituale ma sono consapevoli di dover percorrere ogni strada utile perché non riescono ad immaginarsi come prossimi disperati di una collettività già provata e disgregata. I sindacati nei giorni scorsi si erano rivolti pure al nuovo prefetto. L'avvertenza a livello nazionale coinvolge circa 1500 lavoratori in Italia. Nel sito che si trova a Monticchio lavorano in prevalenza donne con età media di 40-45 anni. Molti addetti sono monoreddito e portano a casa stipendi essenziali per molte famiglie aquilane. Grazie a tutti.